Ciao, 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 ciao. È arrivato il forco l'orissa, eh? Dai un po'. Sono la sigla del cammino di Gigi D'Agostino. Sì, sì. Buongiorno a tutti. Questo è il cammino e io sono Gigi D'Agostino e quindi il cammino è il mio. Però è anche il vostro. Dove è andato Gigi D'Agostino? Oggi cammineremo ovunque. Dove è andato Gigi D'Agostino? Dove è andato Gigi D'Agostino? Grazie a tutti. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino e oggi va un po' dappertutto. Può andare e di qua e di là. Può andare e di qua. 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 Il cammino di Gigi D'Agostino. Può andare e di qua. Può andare e di qua.